Molto bello, veramente. Io sono super giù, sono nato nel 40, non voglio dire la stessa situazione che ci fosse in Italia, ma in tante cose ho visto di quando ero bambino, di tanti particolari, come erano fatte le camere dal letto per esempio, come era la macchina da cucina, tutte queste cose tutto sommato, tutta l'Europa si somigliava. E ho visto come un equivoco, nonostante l'equivoco sia venuto fuori una tragedia, insomma, è molto bello è molto bello, è stato davvero. E' piaciuto anche a lei? Sì, siamo stati molto attenti.